Ehi, benvenuto nel mio nuovo video. Ti consiglio di passare nella descrizione dove trovi tutti i miei social, soprattutto passa dal sito Viola dove streamo tutti i giorni, Instagram per rimanere aggiornato su video e live e Discord per chattare con me ogni tanto. Inoltre ti consiglio di iscriverti al canale dato che ho scoperto attraverso YouTube che molti di voi non sono iscritti. Detto questo, buona visione! Salve ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video di Clash of Clans. Stiamo entrando nel gioco, dato che è finito il pass, quindi di conseguenza ho tutte queste risorse, 25 milioni di elisir, 25 milioni di oro, quasi 250 mila di nero. Detto questo, andiamo subito a sbloccare il prossimo pass, che come sapete io ho un gettoncino, basta che schiacciamo il tasto ottieni, quindi si sblocca subito. E quindi niente, l'andiamo subito ad attivare, così almeno siamo a posto, ci siamo tolti il problema. Queste sono le ricompeste, dobbiamo arrivare assolutamente al potenziamento costruttore 10% per poi poter potenziare tutti gli altri vari edifici. Le ricompeste sono ottime, sono ghiotte, ci sono varie rune, ci sono vari artefatti, soprattutto c'è la skin della regina, la regina vipera, che secondo me a mio avviso è la miglior skin della regina mai fatta, quindi tanta tanta roba. Eccoci qui, quindi appunto ho finito la scioppata del passo, ho fatto un po' di upgrade, che non ho registrato perché li ho fatti in giornata. Vi spiego però un po' come ho suddiviso i vari upgrade, che magari se siete interessati potete segnarvi. Come avete visto io avevo tre costruttori liberi e un sacco di risorse, quindi cosa ho fatto ragazzuoli? Il primo upgrade fatto è stata la casetta di famiglie livello 4, che mi permetterà di avere l'unicorno. Secondo upgrade, anzi prima, prima upgrade, perché prima ho migliorato lo yak possente a livello 2, così ho buttato via dell'elisir nero, dato che avevo in eccesso, e il resto l'ho utilizzato per farmi la campionessa reale a livello 11, utilizzando il libro degli eroi dello scorso pass, e inoltre ho messo anche le streghe a livello 3 a farsi. Prima delle streghe a livello 3 ho usato ben 16 milioni di elisir per farmi i miei draghi elettrici a livello 4. Come sapete i draghi elettrici sono la truppa che attualmente io utilizzo di più, ci vuole diciamo abbastanza tempo affinché si addestrino e tutto, però a mio avviso sono la truppa più forte del gioco. Riguardo invece all'oro, il discorso è un po' diverso, infatti ho dovuto potenziare le mura, perché era l'unico metodo che potevo fare, perché io avevo già portato i due scagliapietre, quindi cosa ho fatto? Ho fatto il municipio a due stelle, così almeno mi faccio la seconda stella e me la tolgo dalle scatole, però naturalmente ragazzi mi mancava ancora un costruttore. Quindi con l'altro elisir ho fatto molte mura a livello 9, adesso vi dico esattamente quante, ne ho fatte 167 a livello 9, me ne mancano 145 da fare dall'8 al 9, così poi ce l'abbiamo tutte al 9, possiamo iniziare a fare la road to livello 10 con i miei anellini di mura. Tutte queste mura a livello 10 che vedete qua arriveranno poi subito a livello 11, perché utilizzerò gli anelli di mura, che secondo me sono molto utili per portare le mura dal livello 10 al livello 11. Riguardo agli altri upgrade, ci spostiamo un attimo sul secondo villaggio, perché qui la situazione è un po' più complicata, ho fatto le tre miniere al livello 9, così almeno le finivamo, ho fatto già tutti gli estrattori a livello 9, gli upgrade grandi che devo fare, c'è sicuramente i cannoni rotelle a livello 14, sempre per la storia della capanna di 8, mi piacerebbe allo stesso tempo anche potenziare la macchina da guerra pian piano, e la Megatesla sicuramente mi piacerebbe farla prima o poi a sto fatidico livello 9. Adesso poi vediamo come organizzarci bene sul secondo villaggio. Siamo a 2705 coppe, quindi sono molto contento del risultato che abbiamo ottenuto fino ad adesso qua sul secondo villaggio. Sicuramente la miniera di gemme, ragazzi, la porterò prima o poi al livello 9, dato che è molto lenta, portarla su e soprattutto non è un upgrade che mi interessa più di tanto. Riguardo però al primo villaggio, io volevo fare un attimo presentare quelli che erano, diciamo i miei prossimi, le prossime cose che volevo portarvi, infatti sicuramente, ragazzi, voi non lo sapete, ma maxerò successivamente a queste streghe, detto che ho maxato i draghi elettrici, che effettivamente era l'unica cosa che poi mi serviva, maxerò prima la gelo a livello 7, così almeno ce la siamo tolta, maxerò la cura a livello 8, e una volta finiti tutti questi upgrade, ossia maxato essenzialmente nel mio masso, magari posso potenziare ancora forse le macchine da serio, ma vediamo, ma mi piacerebbe portare i barbari scelti a livello 8, in quanto avrò la possibilità di, vi porterò anche un video a riguardo, di provare le super truppe. Il super barbaro, ragazzi, a mio avviso, è una delle super truppe migliori all'interno del gioco, perché è veramente, veramente sostanziosa e, ragazzi, vi cambia il modo di farmare, ve lo dico proprio sinceramente. Detto questo, però, io devo addestrare le truppe, non posso purtroppo addestrare, perché mi costano 430.000. Allora, io cosa faccio? Mi faccio un esercito di full drag elettrici, così, ci butto dentro, sbuffo tre mongolfierine, e mi sono rimasti 90.000 ipotetici da utilizzare, che butto su gelo, perché devo farne tre di gelo, butto una furia, e ipoteticamente mi sa che ho finito tutto quello che potevo utilizzare. Devo ancora riempire di altre due furie, ma adesso aspettiamo un attimo che si ripercuota tutto l'elisir, tutte le risorse, ho messo anche la pozionecina che mi permette di guadagnare più velocemente. Riguardo invece alle missioni, le missioni sono queste, sicuramente mi piacerebbe finire il prima possibile la missione, questa qua, la missione questa qui del coso, del mortaio, perché mi vado a schippare con il libro degli edifici, anzi, molto probabilmente il libro degli edifici, forse me lo tengo, fatto sta che comunque andrò a schippare con qualcosa di questo, sicuramente con l'ipote di incantesima andrò a schippare la gelo, e vedremo poi bene come organizzarci. Con il deposito si è messi così, un milione, un milione e tre, un dicimila di nero, quindi sostanzialmente tutte e tre si equivalgono. Ho fatto una cosa, che forse qualcuno di voi non sapete, innanzitutto andiamo a richiedere se qualcuno ha la macchina d'assedio, nel giocatore singolo ho finito, ho finito la mappa, sono 206 stelle, ho fatto due stelle all'antro del drago, ho preso praticamente tutte le risorse che mi concedeva alla questa mappa, e quindi niente, sostanzialmente questo era l'unica cosa che devo dirvi, rinrenti al giocatore singolo, perché mi servivano appunto risorse per farmare velocemente, senza perdere coppe, e questo l'ho trovato il modo a mio avviso migliore. Vi consiglio però di entrare nel nostro clan, perché mi piacerebbe molto portarlo al livello superiore, Shrek-69 mi raccomando, entrate, facciamo guerre tutti i giorni, allo stesso tempo la prossima settimana, anzi esattamente sono già iniziate, ma finita questa guerra la scateniamo, ci sono le leghe della guerra tra il clan, quindi se vi interessa ricordatevi di questa cosa, e riguardo a queste missioni ragazzi non le sto facendo, per un mio motivo personale non mi interessa adesso svolgere queste missioni, o altre cose a cui pensare, ve lo dico proprio spiccio spiccio, e niente, sostanzialmente l'upgrade del mio villaggio sta andando avanti molto pian piano, e spero di portarvi altri video inerenti a Clash of Clans, finiamo il video con il potenziamento della Torre Orologio, così magari mi vado a schippare qualche oretta molto 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 tattica, e niente, noi ci vediamo in un prossimo video qua sul canale, ciao ragazzuoli! Ciao!